ed eccoci qua ragazzi per questo nuovo video oggi è domenica e stiamo facendo un bel giretto qua dietro c'è il diego non so se lo vedete stiamo andando verso punta veleno ragazzi che la strada più la via la strada più ripida d'italia e noi ci andremo oggi per vedere un po intanto andiamo verso Polaveno qua siamo sul lago di Seo andremo a fare Polaveno che è strada famosa in tutti i biker faremo quello poi andremo giù verso il lago di Garda e andremo a prendere punta veleno ragazzi tanto qua guardate il lago di Seo cioè ho capito io non è che andate in giro in bici però c'è vai tutto vostra strada tranquilli eccoci scesi dal Polaveno ci ritroviamo in Valtrompia ragazzi eccoli qua gli smanettoni adesso che passano e si andate andate eccoci ragazzi in Valsabbia ora mancherà poco al lago di Seo non manca c'è il lago di Garda scusate qua è una bella strada ragazzi davvero una bella strada d'albe qua che bello spettacolo ragazzi che stradellina attenzione qua ma che strada ragazzi spettacolo spettacolo non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccoci qua ragazzi, peschiera del Garda, qua è l'inizio del fiume Vincio, dove arrivo fuori dal Garda ragazzi, spettacolo, molto bello. Molto molto bello. Vava che strada lima, che strada lima ragazzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccoci ragazzi, lago di Garda, spettacolo. Wow, vada qua, vada qua che bello. E ci fermo a fare penzo. Eccoci ragazzi, stiamo per arrivare a Punta Veleno, la strada più impervia d'Italia. Stiamo qua, eccola qua. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao. Comunque qua due Wstrom insieme. 6,50 e 1000. Spettacolo. Ciao. 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 Ciao.